Francesca Valentini, schiacciatrice della Ecomat Marsciano, una vittoria che sicuramente è importante per la classifica. Un Marsciano che sta cercando di trovare la sua tranquillità e stasera l'ha trovata. Sì, è andato tutto bene. Diciamo che siamo state brave in battuta. Abbiamo messo molto in difficoltà Narni in ricezione e tutto poi è un'ottomegno. Quindi venivamo da due partite difficili, quella con San Mariano e quella con Fidia. Avevamo bisogno di tre punti, ce li siamo presi. Va bene così. È un inizio di campionato che ti ha visto tra le migliori realizzatrici del girone. Sta funzionando tutto bene la tua intesa con la palleggiatrice. Marsciano può contare su una Valentini in forma strepitosa? Speriamo di continuare. Stasera l'attacco è andata bene, non benissimo. Ho fatto il mio in difesa, ricezione. Va bene, se devo fare pochi punti, però vince, va bene, metto la firma. Abbiamo visto che ti sei specializzato ormai in quella palla lungolinea che finisce fuori dalla linea laterale. Come mai? Questo è colpo segreto, occhio!